44.000 arruolamenti in 15 giorni. Questa è la potenza della sperimentazione che è stata fatta per il vaccino Pfizer-BioNTech. La sperimentazione che ha portato all'approvazione FDA e EMA del vaccino Pfizer-BioNTech è una delle sperimentazioni più grandi al mondo. Sono stati arruolati in 15 giorni 44.000 soggetti. Tenete conto che normalmente per una sperimentazione su 3.000 pazienti l'arruolamento dura circa un anno, un anno e mezzo. Per cui nel momento in cui diciamo che il periodo di osservazione dell'esperimentazione dei vaccini è stato ridotto questo non è vero ed è ampiamente documentabile. I tempi che sono stati ridotti sono stati i tempi di arruolamento, i tempi di analisi dei dati, il tempo di approvazione dei dati, non certo il tempo di osservazione dei pazienti.